Vieniamo finalmente alle cose serie su Berenson. Per me le cose serie su Berenson si riassumono in un fotografo inglese molto importante che si chiamava Cecil Beaton. Cecil Beaton ha fotografato Berenson. Potete trovare queste foto nei frontespizi di alcuni dei suoi libri, almeno di uno sicuramente. Lo sappiamo tutti che Cecil Beaton ci porta ad un'altra parte, ci porta ad un altro tipo di sguardo, quello del famoso grande mondo tra Londra e gli Stati Uniti. Ma c'è una persona, una delle tantissime, che sono state ai tatti per poter parlare con Berenson, che è stata fotografata mentre parlava con Berenson. Era una donna, molto bella, si chiamava Vivian Lee. Oggi ce la ricordiamo perché ha interpretato le quattro ore di via col vento, quando era molto giovane. Naturalmente quando è andata ai tatti sarà stata un po' più grande, ma sicuramente non vecchia perché è morta ancora relativamente giovane. La foto di Vivian Lee, che fa visita a Berenson, ai tatti, è conservata sicuramente nell'archivio fotografico dei tatti e credo sia stata battuta in assa da Sotheby's, perché insomma, se cercate un po' su internet questa foto è come se fosse scomparsa. Io nemmeno l'ho vista e quindi vado ancora una volta per immaginazione. E insisto allora sulle cose serie. Quali sono le cose serie? Ecco, se io devo dire che cosa mi ricordo meglio dei libri di Berenson sui pittori italiani del Rinascimento, direi che sono alcuni contenuti. Cioè il contenuto in particolare sui pittori fiorentini è quello che va sotto il nome dei valori tattili. Cioè Berenson insisteva molto in questi libri sul fatto che quando uno guarda, per esempio, un quadro di Botticelli ha voglia di toccarlo. Questo lo trovo molto affascinante, molto. E questo in qualche modo ha a che fare, secondo me, anche con la presenza di Vivian Lee. Cioè ha a che fare, come dire, con la voglia che abbiamo tutti noi di poter toccare alcune di queste icone. E poi sappiamo che non ci sono perché sono morte, però avremo voglia di tenerle con noi, avremo voglia di raccontare a loro qualcosa. Poi nel libro sui pittori dell'Italia centrale del Rinascimento, Berenson invece ha detto una cosa che poi è stata molto ripresa. L'ho utilizzata anch'io mentre parlavo prima. Cioè che esiste una differenza tra la cosiddetta decorazione e la cosiddetta illustrazione. Cioè che c'è un dipinto, e noi lo potremmo dire anche di un film, che rappresenta qualcosa e poi ci sono invece dei valori che sono quelli, diciamo così, della messa in scena o della messa nello spazio, per esempio nel caso di una rappresentazione, e cioè i valori decorativi. Ecco, queste sono le idee, in un certo senso, che hanno fatto scuola di Berenson. Insieme al fatto che oggi per noi è così difficile da capire che una volta si sapevano meno cose rispetto ad oggi, e quindi sapendosi meno cose c'era bisogno di qualcuno che scoprisse delle cose. Oggi è difficile pensare che esistano quadri senza casa, ci saranno anche, sicuramente ci saranno, c'è spazio per tutto, però abbiamo l'impressione, ma non è soltanto l'impressione, che conosciamo tante cose. Probabilmente in quel mondo che noi immaginiamo in bianco e nero, come nel orgoglio di Berenson, ma non è solo in bianco e nero, come nel caso di Via Colvento, c'erano tante cose che non si sapevano, e quindi c'era bisogno anche di persone che scoprivano, ma anche oggi si fanno ancora scoperte, solo che oggi si fanno in un altro ambito. Cioè, io penso che se oggi ci fosse una persona alla quale, per dire Nicole Kidman, andasse a fare visita, non sarebbe uno storico dell'arte. Secondo me sarebbe qualcuno che lavora nell'informatica, qualcuno che lavora con dei paradigmi numerici, magari sarebbe, non so, un uomo che ha degli handicap e che però ha un cervello particolarmente sviluppato. Credo che quelli oggi sono i cosiddetti modelli, e utilizzo una parola molto semplice, ma che si capisce molto bene, del guru. Ecco, Berenson è stato anche questo, e probabilmente il fatto che fosse un uomo piccolo, un uomo magro, e soltanto gli uomini magri possono campare fino a cent'anni, un uomo colto, un uomo che parlava tante lingue, lo rendeva così desiderato sia da una diva di Hollywood piuttosto che inglese, così come da re di Svezia, che si dice che fosse una specie come di allievo di Berenson.